Di Bocca in Bocca Sanremo 2023. Il commento irriverente di Riccardo Bocca sul 73, o festival della canzone italiana, è una delle principali novità di Casa Sanremo Banca IFIS, e sarà in onda dal 7 o l'11 febbraio dalle 12. 30 alle 13.30 su Casa Sanremo TV. Nato da un'idea di Riccardo Bocca, giornalista e critico televisivo, e Duccio Forzano, regista dei grandi eventi e programmi TV, proporrà un'ora di commenti e analisi pungenti delle serate con la partecipazione di ospiti del mondo del giornalismo e dello spettacolo. Tra questi Dario Salvatori, Rita Pavone, Federico Palmaroli, Osho, Enrica Bonaccorti, Veronica Maia, Beatrice Dondi, Franco Simone, il duo Nuzzo di Biase, Marco Celada, Vince Tempera e Anna Maria Petolicchio, e tanti altri protagonisti del festival che a sorpresa interverranno nello studio allestito al Palafiori. Sanremo, i Depeche Mode ospiti della serata finale. L'annuncio di Amadeus al TG1, il programma è scritto dallo stesso Bocca con Anna Bisogno, docente di televisione o l'Università Mercatorum, che sarà anche presenza fissa nel talk, e Roberta Maggio, esperta di comunicazione, con la regia di Marco Fiata. Casa Sanremo TV, è la TV digitale realizzata da Gruppo Eventi, è scaricabile su tutti i device, è fruibile da tutte le Smart TV, e offrirà una serie di contenuti legati alla settimana di Sanremo, e alle attività della casa. La Digital TV avrà inoltre un palinsesto che proporrà tolte e intrattenimento durante tutto l'anno. ANSA